Il dato è impressionante. Più di 30.000 marchigiani sono attualmente in quarantena fra contagi e contatti diretti con casi positivi. Di questi, più di 22.000 sono asintomatici. Numeri che dicono quanto Omicron sia contagiosa e quanto allo stesso tempo abbia un impatto ridotto su una popolazione regionale sempre più vaccinata. Marche che tra l'altro continuano a gonfiare il conto delle vaccinazioni con due giorni consecutivi alla cifra record superiore alle 19.000 inoculazioni. Le quarantene però mandano in tilt alcuni settori chiave perché in ambito scolastico ci sono più di 200 classi marchigiane in quarantena e più di 300 in didattica a distanza. Defezioni di massa anche nel personale scolastico dove si sta rincorrendo una caccia al supplente. Ma il dato più preoccupante sono i 315 operatori sanitari attualmente in isolamento nelle Marche di cui 60 a Marche Nord. Un ospedale pesarese già allo stremo che, come ricordato dal sindaco Ricci, si sta facendo carico di più del 40% dei pazienti contagiati della regione. Ricci fa pressione sull'amministrazione regionale per un riequilibrio di situazione e gli fa eco il consigliere Biancani che chiede la riapertura del Covid Hospital di Civitanova. Salta Martini bilancia la situazione annunciando l'attivazione per venerdì di 10 nuovi posti letto di terapia intensiva, 5 a Torrette e 5 a Pesaro. Proprio l'ospedale San Salvatore da lunedì ha aperto anche il nuovo ambulatorio anti-ricoveri, un ambulatorio per i pazienti affetti da Covid-19 non gravi che si puntano a curare senza ospedalizzazione ma con gli anticorpi monoclonali e con le nuove compresse antivirali Remdesivir e Monlupiravir. Effettuati i primi 16 trattamenti al momento quasi tutti con i monoclonali, una terapia che viene effettuata in ambulatorio con i pazienti poi rimandati a casa. È partito intanto anche lo sdoganamento della validità dei tamponi rapidi per diagnosi di positività e guarigione al Covid, una pratica che dovrebbe snellire la lentezza delle verifiche con molecolare e le annesse fila il drive tamponi ma che allo stesso tempo rischia di sovraccaricare oltremodo i medici di famiglia già inondati di richieste. Richieste di tamponi rapidi schizzati alle stelle anche nelle farmacie comunali di Pesaro e Gabice passate da 650 test quotidiani a 900.